incendio nella notte a gela le fiamme hanno distrutto l'auto di una donna diritto allo studio chiara chiede la didattica a distanza rete oncologica schifani accesso eco alle cure migliori reddito di cittadinanza parla il dirigente comunale in tilla giornate fai per le scuole a caltanissetta ben trovati un incendio a gela ha distrutto l'auto di una donna e attualmente indagano sul caso i carabinieri il servizio iniziano a essere frequenti gli incendi dolosi che si stanno verificando nell'ultimo periodo a gela a tal proposito è stata una notte calda quella appena trascorsa nel comune in provincia di caltanissetta nella fattispecie un'auto è stata distrutta dalle fiamme intorno alle tre di notte in via cascino l'automobile una range rover di proprietà di una commerciante era parcheggiata a poca distanza da un vecchio rudere della zona sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme dalle prime analisi effettuate sul luogo sarebbe emersa la natura dolosa dell'incendio le indagini intanto sono state affidate ai carabinieri che hanno iniziato le prime analisi per fare luce sulla vicenda i poliziotti del commissariato di niscemi hanno arrestato un trentenne ora agli arresti domiciliari danno così esecuzione alla misura stabilita dalla procura della repubblica del tribunale di gela ufficio esecuzioni penali l'uomo è stato condannato a otto mesi di reclusione per detenzione fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per fatti commessi nell'aprile 2021 anni scemi parliamo adesso di diritto allo studio ed è chiara una studentessa universitaria nissena che chiede la didattica a distanza oggi per seguire le lezioni deve scegliere tra seguire il piano terapeutico per la sua salute oppure essere presente in aula essere una studentessa di 23 anni dover scegliere tra il diritto allo studio e quello alla salute vedersi negata la possibilità di una piccola telecamera accesa che potrebbe fare la differenza si potrebbe riassumere così la storia di chiara comella nissena che siena quando aveva 12 anni convive con 13 patologie rare a causa delle quali ha affrontato più di 30 interventi chirurgici oggi chiara è iscritta al quinto anno dell'università romena di galati duranea di gios che ad enna a una delle sue sedi distaccate nella facoltà di medicina del fondo proserpina che gestisce i servizi dell'università romena le abbiamo contattati ma non abbiamo ricevuto nessun riscontro tutto è partito da una lettera di qualche settimana fa ma non è arrivato l'ok per accendere quella telecamera purtroppo non ho ricevuto nessuna risposta non è cambiato niente e anche a livello politico nessuno non ho sentito nessuno non vedi il motivo per cui non si può accendere una telecamera perché si si parla tanto il giorno d'oggi di uguaglianza ma forse ancora non si è fino in fondo non si capisce fino in fondo quello che vorrebbe chiara è semplicemente vedere la possibilità anche quest'anno di poter fare lezioni in dad come al terzo anno e al quarto anno e per questo si è affidata ad un legale io ho richiesto di fare le lezioni online in questo momento perché aspetto un intervento in america e non posso in questo momento frequentare ogni giorno le lezioni perché devo fare diverse terapie infusionali la nutrizione e non riesco ogni giorno ad andare di presenza tra l'altro in questo momento le lezioni sono tutte frontali quindi non vedo il motivo per cui non posso accendere una telecamera io non ho chiesto di non fare tiroginio che appena starò meglio io lo farò chi come me avesse il diritto di proseguire ai propri studi anche nei momenti in cui si sta peggio vorrei fare capire che oltre alla disabilità siamo persone che abbiamo gli stessi diritti abbiamo il diritto di sognare il nostro futuro attraverso la sua associazione ascolta anche molti ragazzi e ragazze che le raccontano di storie come la sua da quando è uscita un po questa notizia questa mia denuncia tantissime ragazze ragazzi mi hanno contattato che purtroppo hanno sono dovute a chi ritirare chi si è dovuto fermare nei propri studi perché magari non hanno avuto il coraggio di denunciare quello che gli stava accadendo come me appunto vorrei che avessimo gli stessi diritti degli altri oggi chiara per dover seguire le lezioni è costretta a scegliere tra il piano terapeutico e la presenza in aula ma continua a coltivare il sogno di diventare medico nuova rete oncologica siciliana il presidente della regione Renato Schifani dichiara accesso equo a cure migliori si rafforza con il potenziamento della rete oncologica siciliana il patto di salute fra il sistema sanitario regionale e i cittadini la svolta con l'offerta di nuovi percorsi terapeutici e nuovi servizi alla popolazione è stata presentata oggi a Palermo a Palazzo Steri nel corso di un seminario organizzato dalla regione siciliana tramite l'assessorato della salute lo sviluppo della rete oncologica siciliana dice il presidente della regione Renato Schifani si traduce nella possibilità offerta ai cittadini di accedere alle cure migliori su tutto il territorio regionale in modo uniforme ed equo questo inoltre permetterà ai pazienti di essere curati vicino alla propria casa ai propri cari riducendo in modo sensibile il fenomeno della migrazione sanitaria in particolare oltre ai nuovi percorsi diagnostici terapeutici assistenziali l'incontro è servito per mostrare la nuova sezione del portare costruire salute dedicata alla rete oncologica siciliana il sito costruire salute il portale istituzionale dell'assessorato regionale della salute della regione siciliana ospita una sezione dedicata alla rete oncologica una sezione ricca di contributi che attengono non soltanto all'ambito squisitamente normativo relativo ai ptda ma anche una sezione che contiene le informazioni necessarie a tutti coloro che hanno una patologia oncologica di poter essere curati secondo un percorso di assistenza multidisciplinare verticale orizzontale quindi una assistenza completa di cura e trattamento in sicilia nella nostra regione la punta di diamante di questa sezione tutta dedicata alla rete oncologica e la mappa interattiva grazie alla mappa interattiva ciascun cittadino potrà individuare immediatamente selezionando la patologia tumorale di riferimento i centri che sono sul territorio regionale l'individuazione all'individuazione corrisponde anche l'indicazione del referente del centro con i contatti e grazie alle mappe disponibili su google maps sarà possibile anche individuare il tragitto più semplice da compiere a partire dal punto di partenza e fino a raggiungere il centro di riferimento questo è un importante tassello che consente che dà un ulteriore strumento ai cittadini per poter essere garantiti nella tutela della salute oggi dice l'assessore alla salute giovanna volo intervenuta nel corso del seminario segniamo il raggiungimento di un obiettivo importantissimo attraverso la rete oncologica siciliana costruiremo una stretta sinergia fra strutture sanitarie e territorio la rete oncologica siciliana aggiunge inoltre l'assessore alla famiglia nuccia albano deve rispettare le linee guida nazionali garantire gli utenti con percorsi diagnostici uguali a quelli delle regioni più avanzate evitando così il ricorso a cure fuori dall'isola che da un lato incidono sull'economia delle famiglie e dall'altro costituiscono un danno psicologico per i pazienti che devono affrontare i viaggi lontani dagli affetti più cari cambiamo argomento reddito di cittadinanza parla il dirigente del settore delle politiche sociali del comune di caltanissetta giuseppe il reddito di cittadinanza sarà abolito dal primo gennaio 2024 e questa la decisione presa dal governo della presidente giorgia meloni dopo un consiglio dei ministri riunitosi nella tarda sera del 21 novembre fino a quel momento il sostegno continuerà ad essere erogato a tutte le persone in possesso dei requisiti ma per le persone in grado di lavorare durerà al massimo otto mesi in base a quanto è scritto sulla manovra infatti dal primo gennaio 2023 alle persone tra 18 e 59 anni abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili minori o persone a carico con almeno 60 anni d'età è riconosciuto il reddito nel limite massimo di 7-8 mensilità invece delle attuali 18 rinnovabili è inoltre previsto un periodo di almeno 6 mesi di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale in mancanza decade il beneficio del reddito si decade anche nel caso in cui si rifiuti la prima offerta congrua ne abbiamo parlato con il dirigente del comune di caltanissetta giuseppe intilla per capire la situazione in città le dichiarazioni di ieri annunciano una linea di politica pubblica che tende nel breve periodo a ridimensionare il beneficio per la categoria di beneficiare il reddito di cittadinanza considerata occupabile e che attualmente è presa in carico dal centro per l'impiego dai centri per l'impiego e nel medio periodo l'estinzione della misura per questa stessa categoria è l'introduzione di una nuova misura di intervento che non sappiamo se modificherà la denominazione o resterà la stessa denominazione di reddito di cittadinanza che invece ha come destinatari i cosiddetti non occupabili o non immediatamente occupabili che rappresentano quella categoria di beneficiari che attualmente è già in carico ai servizi sociali dei comuni. Io ho preciso che già i comuni svolgono diverse attività sulla implementazione del reddito di cittadinanza e in particolare si occupano dei controlli anagrafici per tutti i beneficiari sia quelli in carico ai comuni sia quelli in carico ai centri per l'impiego e nel caso di Caltanissetta l'attività è capillare e riguarda il 100% dei beneficiari. Questi controlli hanno consentito in questi anni di verificare appunto i requisiti, le condizioni di accesso alla misura, laddove sono state riscontrate le anomalie e sono state segnalate all'Inps che ha assunto i conseguenti provvedimenti, sospensione della misura, revoca nei casi più gravi. Quindi ritengo che questa attività i comuni continueranno a farla e quindi da questo punto di vista noi siamo già attrezzati. Il numero dei beneficiari sul territorio al momento, il dato è chiaramente dinamico, non è statico al momento, siamo all'incirca sui 2.400 beneficiari beneficiari di cui poco meno del 50% sono in carico al comune e la restante parte al centro per l'impiego. Quindi ci attestiamo sui 1.200 circa beneficiari. Dal 22 dicembre si potrà fare richiesta per ricevere gli aiuti nel caso in cui si volesse aderire attingere a quelli che sono i contributi a fondo perduto per ristoranti, bar, piscine e catering. Da martedì 22 novembre sarà possibile fare domanda per ricevere aiuto a fondo perduto per i titolari dei ristoranti, bar, piscine e catering. Sono infatti pronti il modello e le istruzioni per coloro che intendono richiedere contributi destinati a questi settori in difficoltà dal decreto sostegni bis. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, detta le regole per presentare la domanda e stabilisce il calendario per l'invio, da martedì 22 novembre a martedì 6 dicembre. Le imprese richiedenti devono avere registrato nel 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019. Per compilare e inviare la domanda si può utilizzare il servizio web disponibile nell'area riservata del portale fatture e corrispettivi del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Per la compilazione è possibile utilizzare anche un software di mercato che rispetti le specifiche tecniche emanate con il provvedimento, inviando la domanda tramite canali telematici Entrate o Fisco Online dell'Agenzia. L'istanza può essere trasmessa, come detto, a partire dal 22 novembre e fino al prossimo 6 dicembre 2022. Nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova richiesta in sostituzione di quella precedentemente inviata. Possono richiedere il contributo le imprese che esercitano come attività prevalente una di quelle individuate dai codici ATECO 2007. Ristoranti, bar, gestore di piscine, catering per eventi, organizzazioni di feste e cerimonie che hanno subito nell'anno 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019. Per le imprese costituite nel corso del 2020, invece, la riduzione del 40% è determinata tra l'ammontare medio-mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 rispetto all'ammontare medio-mensile dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA. Inoltre, le imprese devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese alla data di presentazione della domanda e devono avere sede legale o operativa ubicata in Italia. Il contributo sarà accreditato, infine, direttamente sul conto corrente indicato dal beneficiario nell'istanza. Parliamo adesso di Film Commission. La regione siciliana, proprio tramite la Sicilia Film Commission, confinanzia la produzione di 18 progetti cinematografici e audiovisivi. Sono state completate le valutazioni delle proposte presentate nella seconda finestra del bando 2022, chiusa a fine settembre. Le produzioni ammesse al contributo si aggiungono alle 19 della prima tornata di finanziamento, completando così il piano di investimenti regionali che quest'anno ha una dotazione finanziaria complessiva di 10 milioni e 800 mila euro e quindi ad essere ammessi al cofinanziamento in questa seconda tornata sono sette lungometraggi, dieci documentari e un cortometraggio. Obiettivo della regione è promuovere e valorizzare l'immagine del territorio. Le produzioni dovranno essere realizzate in Sicilia con maestranze tecniche ed artistiche locali, dovranno anche spendersi nell'isola gli importanti finanziamenti pari ad almeno 150% del contributo ricevuto. Parliamo adesso dell'Istituto Bellini di Caltanissetta che diventa conservatorio statale dal 1 gennaio 2023. Il servizio. L'Istituto Vincenzo Bellini di Caltanissetta diventa conservatorio statale ad annunciare la notizia allo stesso presidente Andrea Milazzo durante una conferenza stampa insieme al direttore Michele Mose e al vice direttore Angelo Licalzi. Viene disposta dunque la statizzazione dell'Istituto che sarà completata a tutti gli effetti sia per quanto riguarda ad esempio i dipendenti o gli studenti a decorrere dal 1 gennaio 2023. Proseguirà comunque il rapporto di collaborazione con il libero consorzio comunale di Caltanissetta come nel caso della concessione dell'uso gratuito da parte di quest'ultimo dei luoghi dove assiede l'Istituto. Ormai il decreto è stato registrato dalla Corte dei Conti per cui la nostra istituzione da oggi viene denominata Conservatorio Statale di Musica Vincenzo Bellini Caltanissetta. Quindi de facto Caltanissetta diventa sede di un'istituzione universitaria statale, un avamposto dello Stato per l'alta formazione artistica e musicale e per quanto ci riguarda chiaramente un grandissimo riconoscimento dell'attività svolta, del valore artistico e accademico della nostra istituzione che chiaramente si consolida anche con questo riconoscimento. Il personale sarà integralmente pagato dallo Stato, noi beneficeremo quindi di un fondo di istituto il che consolida unitamente la buona gestione che il Conservatorio ha avuto negli anni e chiaramente il valore dell'istituzione anche da un punto di vista finanziario. Ma quel che più conta è che in un territorio come quello di Caltanissetta da sempre purtroppo tendente a spopolarsi di istituzioni pubbliche, l'istituto Bellini inverte la tendenza e si insedia quale istituzione statale in questo territorio. Questo per noi è un motivo di grande orgoglio e di grande soddisfazione perché proprio la bellezza e l'arte contribuiscono e concorrono a riqualificare il territorio secondo un motto che non è più teorico ma a questo punto diventa concreto grazie alle nostre azioni. Un cambiamento che permetterà di ampliare l'offerta formativa. La statilizzazione per noi è un grandissimo evento quindi ci permetterà quello di ampliare la nostra offerta formativa con nuovi corsi, cioè corsi di dottorato, corsi di master, ambiamenti dei corsi curriculari esistenti, tanto è vero che già oggi grazie alla statizzazione ci hanno permesso di allargare la nostra pianta organica. Abbiamo due nuovi corsi, quello di eufonio e quello di composizione. Gasdotto sottomarino tra Sicilia e Malta arriva all'ok dalla regione per il progetto, il servizio. Via libera dalla regione siciliana al progetto per la costruzione del gasdotto sottomarino Melita Transgas Pipeline tra la Sicilia e Malta. L'opera, finalizzata all'esportazione di gas dalla rete nazionale italiana è lunga complessivamente 159 chilometri e si compone di quattro sezioni principali. Una prima onshore a terra in Sicilia, lunga 7 chilometri dal terminale di Gela in località Piana del Signore all'interno del territorio gelese fino alla costa. Prevista anche la realizzazione di una seconda sezione offshore a mare dalla costa fino al limite delle acque territoriali italiane lunga circa 57 chilometri, poi di una terza in mare lunga circa 94 chilometri dal limite delle acque italiane fino alla penisola di Delinara lungo la costa nord-occidentale di Malta. Verrà realizzata anche un'ultima sezione a terra lunga circa 700 metri sul territorio maltese fino al terminale di Malta. Il presidente della regione Renato Schifani ha sottolineato l'importanza e la strategicità di un'opera del genere che darà la possibilità alla Sicilia di ricoprire un ruolo di piattaforma energetica e logistica. Amo a te è il titolo dell'iniziativa incontro che si è tenuto oggi al consorzio universitario di Caltanissetta in anticipazione alla tematica della violenza contro le donne. Amo a te l'evento organizzato dall'ufficio di esecuzione panale esterna di Caltanissetta con la collaborazione dell'associazione delle donne in movimento, l'associazione di Nersisi, la FIDAPA di Caltanissetta e l'unità operativa educazione e promozione alla salute aziendale con il patrocinio dell'assessorato alle pari opportunità del comune di Caltanissetta. L'incontro ha visto sin dalle 10 del mattino l'aula magna Leonardo Sciaccia del consorzio universitario Nessano gremita di giovani delle varie delegazioni delle classi quarte e quinte negli istituti di scuola superiore della città. Questa è una giornata davvero particolare per noi, anche l'organizzazione è un'organizzazione che parte da un presupposto alternativo. Simbolicamente forse questa immagine della scarlata ci dice tanto, perché qui abbiamo Cappuccetto Rosso e il lupo, che simbolicamente rappresentano un po' la vittima e l'autore della violenza, l'autore del male, il bene e il male. Partiamo da questa contrapposizione perché in questo scuro e in questo rosso in realtà non ci sono dei confini netti, ci sono paure, ci sono ambivalenze, ci sono ambiguità e oggi è importante partire dalle differenze, da come l'approccio culturale stabilisce e crea costumi e culture che sono poi la base un po' di quella che è la violenza. Ha moderato l'incontro a Ster Vitale, portavoce dell'Associazione Onda Donne in Movimento, un programma ricco che tra arte, cultura e interventi tematici si è svolto ispirandosi al libro di luce e i rigarei. Amo a te è la presa di coscienza che l'amore rinuncia ad ogni forma di possesso. I vari interventi hanno guidato la platea a riflettere sull'importanza di una società fondata sulla cultura del rispetto e di una secca e ferma condanna alla violenza contro le donne. Noi partiamo come ufficio di esecuzione penale esterna dalla presa in carico del maltrattante che oggi ha un ruolo centrale perché non si può pensare di prendere una persona che ha commesso un reato, chiuderla dentro una struttura penitenziaria e pensare che quest'uomo esca ripulito e rigenerato. Non è così e ce lo dimostrano tanti fattori, in primis proprio gli studi sulla decidiva, che dimostrano come le persone messe dentro una condizione restrittiva porta a una recidiva al 70%, chi invece fa dei programmi hanno una recidiva al 18%. Partiamo insieme al movimento delle reti locali di Caltanissetta, le onde, la FIDAPA, la prevenzione, l'ASP come prevenzione appunto e incontriamo le scuole. Caltanissetta, la parrocchia Sacro Cuore ricorda, Don Vincenzo Scuderi, il servizio. Una foto di padre Vincenzo Scuderi posta vicino all'altare durante la celebrazione eucaristica delle 18 ha permesso di ricordare la sua figura proprio il 22 novembre, giorno della sua scomparsa nel 1982. Un momento di grande commozione per tutta la parrocchia del Sacro Cuore che si prepara intanto a celebrare i suoi primi 70 anni di vita. A partire dal 29 settembre 2023 verranno organizzati infatti diversi eventi che ricorderanno sia la nascita della parrocchia e dell'oratorio che proprio la figura di Don Scuderi. Tra le iniziative in programma anche una pubblicazione che raccoglie la storia della parrocchia a fine giorni d'oggi, curata dal parroco Salvatore Rumeo, da Giussi Di Raimondo e Giulia Bonelli, con contributi fotografici e anche testimonianze di alcuni parrocchiani. 22 novembre 2022 sono già trascorsi 40 anni dalla morte del compianto e amatissimo Don Vincenzo Scuderi che tutti i nisseni ricordano e portano nel cuore. È stato un grande uomo, un grande sacerdote, un grande accompagnatore dei giovani. Vogliamo ricordarlo perché è bene ricordare l'esempio dei grandi testimoni e dei grandi uomini. È rimasto a Caltanissetta per nove anni, ma in questi nove anni Don Scuderi riuscì a mettere sopra la città di Caltanissetta, non solo perché attirava qui all'oratorio molti giovani, ma perché diventò compagno delle famiglie, compagno dei poveri. Lui partiva dall'unico grande ideale della sua vita, Cristo crocifisso. Quando in quel lontano 29 settembre del 1953, quasi 70 anni fa arrivò a Caltanissetta, dalla sua valigia prese Cristo crocifisso. È proprio a Cristo crocifisso che volle consacrare questo oratorio, per anche la lungimiranza profetica di Monsignor Giovanni Iacono che volle donare alla famiglia salesiana il suo villino, laddove in estate lui si recava per trascorrere con gli insegnanti del seminario le ferie estive. Giornate FAI per le scuole a Caltanissetta. Si riscopre la bellezza del territorio con Ciceroni Nisseni. Il servizio. Undicesima edizione giornate FAI per le scuole. Sono 250 gli studenti che provengono da 10 istituti e che saranno i Ciceroni dell'iniziativa, che oggi venerdì li rende ambasciatori ed esploratori della bellezza del territorio in cui vivono. Le scuole che hanno partecipato oggi all'iniziativa hanno vissuto un'esperienza di educazione e formazione immersiva, Scoprire Palazzo Moncada, uno dei gioielli della città di Caltanissetta. L'evento riguarda oltre 100 luoghi speciali in tutta Italia. Un evento nazionale che a Caltanissetta coinvolge tutta la comunità studentesca a partire da diciamo di ogni ordine e grado. Gli apprendisti Ciceroni naturalmente che si cimenteranno nello studio e nell'approfondimento del Palazzo Moncada, in questo caso che è il bene aperto a tutti i cittadini e a tutti gli studenti, sono i ragazzi dell'istituto, del liceo classico di Caltanissetta e invece dello Juvarra Manzoni, che oggi sono i primi, i ragazzi che per primi si cimentano in questa entusiasmante avventura. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo naturalmente è appassionare una comunità studentesca che risponda con entusiasmo a temi di tipo culturale. Proprio a Caltanissetta la visita del palazzo è a cura degli apprendisti Ciceroni del liceo classico linguistico e coreutico Ruggero VII e dell'istituto Alessandro Manzoni e Juvara. Il programma proposto dalla delegazione nissena riguarda Caltanissetta, Gela, Mazzarino e Riesi. Tanto lavoro ed entusiasmo alla base della manifestazione, quattro luoghi diversi con progetti che guardano alla storia e alle caratteristiche di ogni città coinvolta, con l'obiettivo di educare al valore e alla tutela del patrimonio culturale del territorio. Il Comune di Caltanissetta ha scelto il palazzo Moncada per metterlo a disposizione per le giornate del FAI, perché rappresenta uno dei simboli più importanti del patrimonio culturale della della città. Poter far conoscere questo palazzo anche ai giovani, che ne possano conoscere sia le caratteristiche dal punto di vista progettuale, sia del patrimonio culturale del palazzo stesso e di ciò che esso contiene, la mostra di Tripisciano, le opere di Frattallone e tutti gli altri artisti che si trovano locate all'interno del palazzo. L'obiettivo nostro è quello di fare in modo che il palazzo possa arricchirsi sempre di più nel suo patrimonio artistico e che possa diventare centro culturale per l'intera città. Il primo appuntamento della stagione teatrale del Teatro Regina Margherita sarà l'Hamlet con Giorgio Pasotti e Mariangela D'Abraccio, lunedì 28 alle ore 21. È dedicato a William Shakespeare lo spettacolo d'apertura di svelamenti. La nuova stagione teatrale e musicale del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. Saranno Giorgio Pasotti nel ruolo di Hamleto e Mariangela D'Abraccio nei panni della madre Giltrude i protagonisti di Hamlet, l'appuntamento che lunedì prossimo, 28 novembre alle ore 21, apre la stagione promossa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Gambino e curata dall'assessore della cultura Marcella Natale. Liberamente tratto da Hamleto di Shakespeare con l'adattamento di Alessandro Angelini e Antonio Prisco e con la regia di Francesco Tavassi, Hamlet offre uno sguardo contemporaneo alla famosa opera shakespeariana. Hamleto è un personaggio molto attuale, un eroe moderno, dalla psiche profonda e complessa, che si trova ad affrontare una battaglia interiore prima ancora che con il mondo esterno. Insieme ai protagonisti principali sul palco ci saranno Claudia Tosoni nel ruolo di Ophelia, Gerardo Maffei nei panni di Re Claudio e lo spettro, Dieco Migeni in Polonio, Pio Stellaccio Laerte, Salvatore Rangatore Rosengratz e Andrea Papale Gildersten. È ormai tutto pronto per dare ufficialmente il via a questa nuova stagione teatrale, commenda il sindaco Roberto Gambino. Iniziamo con importanti nomi del panorama nazionale e con una pietra miliare della drammaturgia. Un'antologia di novelle di Rosso di San Secondo. È stata presentata così la San Secondiana, il servizio. È stata presentata la città San Secondiana, antologia di lettura per le scuole, curata dalle docenti Marina Castiglione, che insegna linguistica italiana all'Università di Palermo, Maria Grazia Trobbia, studiosa di Pier Maria Rosso di San Secondo e da Marisa Sedita Migliore, presidente del comitato di Caltanissetta della Dante Liglieri e del parco letterario Pier Maria Rosso di San Secondo, le due realtà che hanno promosso il progetto. Il volume raccoglie le novelle dello scrittore e drammaturgo nisseno vissuto a cavallo tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, con l'obiettivo di incrementare sempre di più la conoscenza delle sue opere, soprattutto tra i giovani. Abbiamo voluto quest'anno cambiare completamente rispetto agli anni precedenti, non più i convegni destinati soltanto ad alcuni esperti, ma i testi di Rosso, la sua parola che entra direttamente nelle scuole. Ci sono anche le novità riguardanti Rosso, a partire dal nome Pier Maria unito e non staccato. Abbiamo detto che a questo punto è importante anche modificare i testi che sono in giro, a partire dalla intestazione sulla tomba che ha Pier Maria staccato. Noi stessi il parco letterario avevamo scritto Pier Maria staccato e lo andremo a mettere per intero. Questa è una delle novità, ma ce ne sono tante altre. Ci si è sempre basati sullo studio della drammaturgia, quindi del rosso drammaturgo. in realtà sicuramente non è una strategia che lo aiuta, lo ho aiutato fino ad ora. Rosso va presentato ai giovani innanzitutto partendo dalla narrativa e questo abbiamo voluto fare noi. Abbiamo voluto fare una raccolta di novelle variegate per tematica, per tipologie e non basate soltanto sui soliti temi sansecondiani. Quindi ci stanno anche figure completamente nuove, completamente innovative che possono anche divertire, divertire tanto. Parliamo adesso di automobilismo. Ufficializzate le classifiche dei campioni siciliani pubblicati i nomi dei vincitori dei titoli dei campioni regionali, dei protagonisti assoluti e di classe per la stagione 2022. La delegazione regionale AC Sport ha pubblicato ed emanato gli elenchi completi delle varie discipline, tranne la regolarità per la quale bisognerà attendere l'esito dell'ultima gara ancora da svolgere. Affreggersi del titolo di campione assoluto velocità salita 2022 è stato Luigi Fazzino, il melilese che potrà mettere l'ambito trofeo accanto a quello di campione italiano under 25. Sempre per il settore salita fra le auto storiche sono campioni regionali assoluti 2022. Giuseppe Riccobono del primo raggruppamento, Giacomo Spezia del secondo, Salvatore Caristi terzo e Ciro Barbaccia di quarto. Del settore rally, automoderne, il campione assoluto primo conduttore è il giovane palermitano di Prizzi, Marco Pollara, mentre il titolo come secondo conduttore è andato a Massimo Cambria, fra gli uomini e Giorgia Maria Bruno, fra le donne. Questa edizione del nostro telegiornale termina qui, vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità. Buon proseguimento. Un saluto a ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì avremo una temporanea tregua dal maltempo sull'Italia, infatti la pressione atmosferica andrà aumentando, favorendo dunque un miglioramento su molte nostre regioni. Vediamo più nel dettaglio la mappa della nuvolosità che ci mostra come gran parte del nostro paese si ha le prese con il sole, salvo una maggiore nuvolosità che insisterà all'estremo sud, qui con anche qualche goccia di pioggia, infatti osservando anche lo zoom delle precipitazioni, notiamo come qualche fenomeno sarà possibile tra la Sicilia tirrenica e la Calabria. Per il resto avremo tempo asciutto, ma attenzione a una perturbazione che nel corso di venerdì tenderà ad avvicinarsi poi al nostro paese nuovamente. Vediamo quindi nel dettaglio il tempo sul nostro paese nella giornata di giovedì, tempo che resta stabile e soleggiato un po' ovunque, qualche addensamento sui confini alpini con fiocchi di neve sui crinali, ma si tratterà comunque di fenomeni molto localizzati, una maggiore variabilità al sud, qui con qualche acquazzone anche a sfondo temporalesco tra il Messinese e la Calabria tirrenica. Clima che resta molto ventoso al centro-sud, tutti i dettagli su Trabi Meteo.